ho atteso questo momento per lunghissimo tempo finalmente risponderò a tutte le domande idiote questa è la più frequente di tutte ma tu sei un medico no e non ho mai detto di esserlo mai l'ho specificato anche nella descrizione di tutti i video e nella descrizione del canale ma visto che mi fai questa domanda avrei una domanda anche io per te se fossi un medico prenderesti per buono tutto quello che dico e se fossi un medico non sarebbe ancora più grave se dicessi falsità sì e allora perché ti va benissimo quando dei medici dicono falsità e non vai a criticarli ah già forse perché ti rassicurano e perché dicono esattamente quello che vuoi sentirti dire questa domanda me la fai unicamente perché io ti dico cose che non vuoi sentirti dire nessuna persona che apprezza i miei video mi ha mai chiesto se sono un medico mai che è strano è perché dovrei ascoltare te e non un medico premettendo che ci sono medici che dicono quello che dico io però tu l'ignori chissà perché io non ti ho mai detto che devi ascoltare me sei liberissimo di ascoltare chi ti pare ma la cosa più sensata secondo me sarebbe ascoltare tutti quanti dopodiché fare le proprie ricerche autonomamente guarda un po è quello che faccio anche io ricerche che oggi può fare chiunque grazie a internet a meno che non sei troppo piccolo per muovere due titini sulla tastiera oppure non conosci l'inglese o non sai nemmeno leggere e quindi chiunque può vedere da sé la ragione da che parte sta se credi che io qui non abbia alcun posto è falso prima di tutto perché esiste libertà di parola e in secondo luogo non sarei qui se la maggior parte dei medici fosse stata in grado di fare il proprio lavoro numero 3 questa pure bellissima ma che vita è senza i carboidrati che vita è con le malattie numero 4 capita spessissimo che qualcuno lascia un commento a un mio video dicendo hai sparato tutte cazzate quando io gli chiedo ma specifica che cosa su che cosa non sei d'accordo di quello che ho detto viene risposto non concordo su tutto quello che hai detto facile così è anche io non concordo con quello che hai detto ma ti rispondo spiegandoti perché se non sai spiegarmi perché se non sai spiegarmi su che cosa non concordi e perché se non sai spiegarmi quali sono le scemenze che ho detto perché sono scemenze e qual è la verità come faccio io quando critico gli argomenti degli altri allora significa che non hai argomenti che non sei preparato però siccome appartiene a un'altra scuola di pensiero siccome hai un'altra religione in testa allora devi solamente attaccare e dire che ho detto una marea di cazzate senza essere in grado di spiegare fossi te comincerei ad imparare un po qualcosa sull'alimentazione autonomamente come ho fatto io poi dopo torni a commentare come puoi mangiare carne tutti i giorni non lo sai che la carne fa male soprattutto se è mangiata troppo spesso trovami una sola prova una prova concreta che mangiare carne troppo spesso faccia male che non si possa mangiare solo carne soprattutto trovami qualche nutriente che manca nella carne qualche nutriente essenziale che non si può trovare nella carne di cui io avrei carenza se mangio solo carne e se proprio insisti con i nutrienti perché sei convinto che si trovano nei vegetali allora ti invito a guardare il video in cui ho parlato di tutti i nutrienti che non si trovano nei vegetali che invece si trovano negli animali e soprattutto trovami un solo alimento uno solo che è in grado di competere anche lontanamente con il fegato in bocca al lupo e vabbè ma alla fine questa tua pseudodieta la stai facendo solamente da un anno anche se la facessi da 20 anni qualcosa mi dice che non ti convincerei comunque e va bene chi ti vuole convincere ma non fingere il contrario detto questo la mia salute la mia forma fisica stanno migliorando non peggiorando sono guarito da psoriasi e orticaria due malattie autoimmuni quindi ho i fatti dalla mia parte se pensi che ci sia bisogno di più tempo per dimostrarti qualcosa dimmi tu quanto tempo ci vuole io sto qua a meno che non succede una guerra una catastrofe naturale una rivoluzione il che sempre può essere visti i tempi che corrono mi troverai qua torna fra un anno torna fra 20 anni non ho problemi vuoi tornare fra tre anni va bene torna fra tre anni mi troverai qua mi troverai sempre in salute e anche se mi troverai in salute dirai che io mento quindi oppure avrai da ridire su cose totalmente assurde ma poi questa che critica è tu hai forse la certezza assoluta che la tua dieta qualunque essa sia ti eviterà per sempre di sviluppare patologie ci sono youtuber che parlano di alimentazione da anni hanno dato dei ciarlatani a chi a loro detta faceva disinformazione c'hanno pure il pezzo di carta gli è venuto un tumore come mai nei loro confronti leggo solamente messaggi di supporto giustissimi e ci mancherebbe e nessuna critica deficiente come questa sotto i loro video come mai e soprattutto come mai in tal caso nessuno gli va a dire che il fatto che gli è venuto un tumore indica che quello che hanno fatto finora è sbagliato che tutte le loro teorie sono sbagliate io mi sentirei un pochino in difetto no se do dei ciarlatani agli altri se dico che quello che faccio io è qualcosa di salutare che non ci sono rischi in quello che faccio e poi un giorno mi viene un tumore mi sentirai in difetto perché sono una persona onesta invece loro no per carità il tumore è caduto dal cielo no 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 in quel caso non si cercano mica dei modi di screditarli perché la pensano come noi quindi si scredita e si attacca solamente chi la pensa in maniera diversa da noi ovviamente non c'è bisogno di eliminare tutti questi alimenti come fai tu perché mio nonno ha 95 anni mio nonno ha 100 anni mangia un po di tutto e sta bene che argomento ridicolo è come dire che ci sono persone che fumano tutta la vita e non sviluppano il cancro questo prova che il fumo non fa vedere il cancro prova solamente che ci sono eccezioni nel senso che le persone non sono tutte quante uguali per cui ci sono persone più forti persone meno forti persone che hanno delle predisposizioni magari alcune sono predisposte per ammalarsi che ne so al fegato ai reni oppure sulla pelle e altre invece sono predisposte per avere problemi ai polmoni e ma io conosco centenari che mangiano un po di tutto e quindi non hanno problemi non hanno bisogno di eliminare gli alimenti come fai tu poi conosci tantissimi centenari che mangiano un po di tutto ok mi fa piacere a questo punto sai che ti dico portameli sul canale voglio intervistarli la mia mail è diario carnivoro chiocciola proto mail punto com vediamo che cosa mi raccontano io ci scommetto intanto che se sono centenari adesso mettiamo che una persona in questo momento ha 100 anni e mangia un po di tutto quindi nel 2021 a 100 anni è nata nel 1921 tu vuoi dirmi che a inizio novecento mangiava quello che mangia oggi è letteralmente impossibile queste persone hanno fatto la seconda guerra mondiale hai la minima idea di come hanno stretto la cinghia hai la minima idea di come la stragrande maggioranza ha patito la fame ignori completamente il fatto che la stragrande maggioranza dei cibi che consumiamo oggi che riteniamo normalissimo consumare non esisteva nemmeno all'epoca io ci metterei la mano sul fuoco che se oggi ci sono dei centenari che mangiano un po di tutto è oggi che mangiano un po di tutto e da pochi anni che hanno iniziato a farlo noi oggi consumiamo alimenti dannosi sin da quando nasciamo persone che sono vissute durante la guerra di certo non cominciavano la giornata con latte biscotti marmellata merendine fette biscottate frutta come appunto siamo abituati noi a fare da tenerissima età sicuramente si muovevano molto più spesso rispetto a noi oggi poi sono andati incontro anche a quella selezione naturale che appunto la natura ha sempre fatto sin dall'alba dei tempi che solamente oggi non c'è più ossia i genitori facevano 7 8 10 15 figli molti morivano quelli che sopravvivevano erano i più forti quindi i centenari che abbiamo oggi sono il risultato di quella selezione naturale sono quelle persone più forti mentre invece noi siamo quelle più deboli perché siamo molto spesso figli unici oppure abbiamo solamente un fratello o una sorella ok perché oggi i figli sono molto pochi non c'è più quella selezione naturale il nostro sistema immunitario molto più debole a causa di alimenti scorretti che assumiamo sin da tenerissima età a causa di farmaci che ci vengono dati in sostituzione di cure più naturali i bambini oggi restano a casa per la stragrande maggioranza del tempo quindi oggi non usciamo più come in passato non si sta più all'aria aperta non si sta più al sole nell'acqua nel cibo ci sono un sacco di inquinanti come pesticidi erbicida tutte queste cose hanno indebolito il nostro sistema immunitario oggi siamo molto più deboli rispetto alle persone del passato quindi è chiaro che se una persona che oggi è anziana comincia a mangiare un po di alimenti che a noi fanno male per loro dopo tutto non è la fine del mondo per la prima parte della loro vita si sono comportati bene si sono comportati vivendo secondo natura o per lo meno più secondo natura rispetto a noi se tu pensi che l'unica cosa che dobbiamo eliminare sono le merendine domanda gli antichi egizi ce l'avevano le merendine no perché ho fatto un video sui antichi egizi per parlare del fatto che rispetto ad altri popoli contemporanei sviluppavano molte più malattie soprattutto ai denti per esempio poi anche gli eschimesi quando hanno iniziato ad allontanarsi dalla loro alimentazione tradizionale che consisteva solamente di pesce e carne di caribou ed hanno iniziato a mangiare patate e cereali hanno iniziato ad ammalarsi non hanno di certo consumato le merendine a cosa mi serve la dieta carnivora se non ho malattie c'è questa credenza che ci sia bisogno di eliminare gli alimenti ma solamente per un breve periodo altrimenti non ci sa che cosa succede e poi solamente se hai malattie quindi una persona sana non ha assolutamente alcun motivo di fare una dieta carnivora questo è falsissimo perché ti faccio un esempio dall'età di 17 anni quindi ero giovanissimo ho cominciato a vedere che le persone si stupivano quando mi toglievo la maglietta e mi dicevano spesso che io avevo un bel fisico che avevo un ottimo potenziale che potevo diventare chissà che mi chiedevano come mi allenavo ora quali sono gli obiettivi di una persona che si allena chiaramente migliorare sempre ma anche nel confronto con gli altri qual è il motivo per cui chi si allena assume integratori o addirittura ricorre al doping qual è il motivo il motivo è migliorarsi sempre di più e riuscire ad avere un vantaggio sopra gli altri ok è per questo motivo che si ricorre agli integratori e al doping altrimenti chi mai li utilizzerebbe ora se io avessi avuto 17 anni qualcuno mi avesse detto che mangiando in questo modo avrei avuto sempre un vantaggio sopra gli altri chiaro io a quell'età ero scemo per cui non avrei provato lo stesso non gli avrei creduto avrei pensato che la cosa migliore era prendere un sacco di integratori perché ero stupido a quell'età ma probabilmente una persona più intelligente avrebbe provato e infatti io oggi con la maturità che ho e con gli effetti che ho visto della dieta carnivora non hai la minima idea di quanto rimpiango di non averla scoperta prima quando ero più piccolo anche perché se l'avessi scoperta 17 anni di certo non avrei mai sviluppato la psoriasi e l'orticale come le ho sviluppate l'anno scorso e non avrei sofferto come ho sofferto inoltre molti ragazzi hanno tantissimi segni della loro alimentazione scorretta per esempio cosa comunissima l'acne se dice ad un ragazzo che è strapieno di acne in faccia dietro la schiena sul corpo in generale che se mangia in questo modo per un mese vedrà scomparire l'acne ti pare che non c'è qualche ragazzo che ci prova se un ragazzo giovane colpito dall'acne volesse provare la dieta carnivora almeno per un mese io gli dimostrerei che lo farebbe sparire quindi che motivo avrebbe una persona sana di provare la dieta carnivora ce ne avrebbe i motivi è solo che noi abbiamo normalizzato ogni singolo problema di salute per cui pensiamo che l'acne nei giovani sia normale pensiamo che avere le ossa rotte da anziani sia qualcosa di normale pensiamo che perdere i capelli sia qualcosa di normale quando in realtà non è assolutamente così è anormale non è qualcosa di naturale ora queste sono le critiche più comuni e idiote che mi vengono fatte spesso quindi ho voluto dare risposta a queste critiche se più avanti ne usciranno anche altre risponderò anche ad altre sono sicuro che usciranno perché non si fermeranno facilmente grazie mille per guardare questo video iscriviti al canale se sei nuovo clicca sul tastino mi piace per supportarmi